Ciao Willow Come va? Buonasera avanti Ah tutto bene Sai cosa ho visto ieri? Il nuovo video di Piro Recensione al parchetto Cazzo ma è geniale Non ho mai fatto nessuno Quale parchetto però? Nervi Parco di Nervi Parco di Nervi Cazzo Una qualità del genere l'ho mai vista Mai Assoluta Signori Subito Qualmeno all flash Se lo metti velocizzato magari sembra che mi butto giù da giù Bambini non fate la casa E' molto pericoloso Ma fatelo qua Lo chiamavano Udini Udini faceva queste cose Certo No cacca Cacca ti dico Potremmo mettere degli schifo qua E ci facciamo Vedo un'auto dietro alle sbarre Ma mamma è vita Questa è la presentazione artistica Della morte Della morte Del pensiero del bambino Che non viene più a giù Al contempo Ci trasportavamo i pacchi di droga Oh Vieni qua Usate il cameraman gay Vabbè E' quello che sono usato anch'io E' la cosa più brutta che abbiamo ripreso Vabbè